L'Albergo del Cuore è un albergo speciale, situato in Via Rocca Brancaleone 42. È un progetto della Cooperativa San Vitale che promuove una cultura dello sviluppo sostenibile, servendosi dell'innovazione e dell'offerta turistica, riqualificazione tramite tecniche moderne e ecosostenibili e l'inclusione sociale e lavorativa di ragazzi con disabilità. L'immobile che ospiterà l'albergo verrà ristrutturato tramite contributi volontari dei cittadini, raccolti dalle campagne 5x1000. È un progetto che fa dell'accessibilità e dell'inclusività le sue caratteristiche fondamentali, un'accessibilità e inclusività su diversi piani. Da una parte l'albergo sarà strutturato e fisicamente, quindi ci sarà chiaramente assenza di barriere architettoniche eccetera, ma ci sarà la strutturazione di una serie di interventi e di accoglienza attraverso programmi educativi e quant'altro, sostegno educativo, che possa dare la possibilità a tutte le persone, anche a quelle con disabilità, di godersi pienamente una vacanza. L'altro aspetto di inclusività su cui vogliamo comunque stressare e che ci preme sottolineare è l'inclusività dal punto di vista dell'inclusività occupazionale e lavorativa nei confronti delle persone, dei giovani con disabilità che vivono nel nostro territorio e che spesso, per esempio, dopo la scuola alberghiera, non riescono a trovare un posto e uno spazio nel mercato del lavoro to-cure. Quindi attraverso l'albergo daremo la possibilità anche a questi giovani con disabilità intellettiva di trovare un posto di lavoro all'interno dell'albergo. Come faremo a promuovere questo progetto a livello internazionale? Allora, lo citavo durante la conferenza stampa. avremo un coordinatore speciale di questo progetto che è un ragazzo, un economista che è Ravennate che si è trasferito a Bruxelles per alcuni anni e tornerà a Ravenna proprio per portare avanti questo bel progetto. Quindi faremo perno, diciamo, sulla sua competenza specifica per connetterci alla dimensione europea. Tenete conto che in Europa esperienze di questo tipo quindi di alberghi etici, sociali, ne esistono già molti. In Italia siamo un pochino indietro rispetto a questo tema in particolare anche la città di Ravenna ma noi ravennati siamo abituati a fare dei grandi passi in avanti magari partiamo un po' lenti e poi diamo una grande accelerazione per cui in Europa esistono molti esempi di questo tipo e di progetti legati al turismo sostenibile, accessibile e quant'altro. Per cui penso che sarà paradossalmente più semplice collegarci alla dimensione europea attraverso la gancia delle reti di turismo sociale accessibile che esistono già piuttosto che in Italia. Penso che la dimensione europea sarà paradossalmente più semplice da agganciare rispetto a quella italiana ma ce la metteremo tutta in un senso e nell'altro perché veramente il sogno di portare Ravenna ad essere una città etica europea ci colpisce e vorremmo veramente investire molte energie in questo senso.